Bentrovati, oggi ci troviamo in un luogo di Palazzo Madama, insolito, che non è ancora aperto al pubblico e quindi inaccessibile. Siamo nel sottotetto che si trova sopra il Senato. A questo luogo si accede attraverso la nostra torre romana. È un luogo molto particolare che, come potete intuire, racconta la storia del palazzo a partire da circa il 1600. Nel 1637, infatti, Cristina di Francia decise di fare di Palazzo Madama, che ancora non era Palazzo Madama, ma era il castello, la sede della sua dimora. A partire da quelle date, 1637 fino al 1645 circa, venne costruito questo che è un luogo magico. È come stare dentro la pancia di una nave, solo a testa in giù. Si tratta di capriate palladiane miste, con una carpenteria, beh, si racconta da sola, importantissima, fatta attraverso dei legni che delle indagini dendrochronologiche condotte dal Politecnico di Torino hanno certificato essere vecchi di circa 200-300 anni rispetto al loro utilizzo. Quindi si tratta di legni storici, storicizzati, come la lunga trave in rover di circa 22 metri che fa da catena sotto la nostra finestra. È un luogo che permette di osservare Torino dall'alto, ma Palazzo Madama dall'interno. Racconta molte storie ed è una parte che ha resistito ai vari cambiamenti. Fra i vari cambiamenti c'è stato anche quello di ospitare l'osservatorio di Torino, voluto da Giovanni Plana e costruito intorno al 1813, dal 1813 fino a circa il 1823, sulle due torri di Palazzo Madama avremmo trovato la specola e l'osservatorio. Berthea decise di rimuoverlo intorno al 1913 perché le luci della città ormai in crescita e ormai molto popolata avrebbero interferito con la lettura delle stelle, quindi questo non era più un punto di osservazione delle stelle consigliabile. Si tratta di un luogo magico e come Palazzo Madama ogni angolo racconta più più storie. Fra queste storie quella del decumano massimo che noi possiamo ancora osservare e intuire attraverso via Garibaldi. Si tratta della linea che idealmente e anche fisicamente avrebbe unito l'est all'ovest e non a caso infatti si trova fra le nostre due torri romane. Lo sguardo su Torino permette di leggere una stratigrafia complessa che parte appunto dall'antica Roma e che arriva fino ai giorni nostri e ci consente una visuale inaspettata, sorprendente. Possiamo vedere l'esterno e possiamo anche intuire l'interno.